Benvenuti al secondo appuntamento con la scienza con i supereroi, la serie con cui cerco di raccontare la scienza utilizzando i fumetti dei supereroi. La serie è iniziata parlando di come Flash sia in grado di afferrare al lavoro un proiettile. In particolare in quell'occasione mi sono andato a concentrare su Jay Garrick, il primo Flash. Questo perché questa fu la prima impresa di Jay, immortalata tra l'altro nella copertina del suo albo d'esordio, Flash Comics numero 1. Nel video di oggi invece andremo a parlare del secondo personaggio che ha indossato il manto di Flash, ovvero Barry Allen, che è probabilmente il Flash più noto di tutti. Non solo per via del suo successo nei fumetti, ma anche per il successo in televisione, visto che ha avuto ben due serie televisivi. Barry Allen fa il suo esordio su Showcase numero 4, ideato da Robert Kaniger e Carmine Infantino. Nella storia di apertura dell'albo, che è anche la storia d'esordio del personaggio, vediamo nella prima scena una base militare al cui interno due soldati stanno guardando ciò che accade su un radar. Questo sta mostrando il movimento di un oggetto che si sta muovendo a una velocità superiore a quella del suono. Il problema, ciò che dà maggiori grattacapi ai due soldati, è che questo oggetto non si sta muovendo in aria, ma sulla superficie della Terra. Subito dopo questa scena, ecco che vediamo in realtà l'origine di quel punto, perché gli autori ci trasportano fino al Dipartimento di Polizia, in particolare nel Laboratorio della Scientifica, dove troviamo Barry Allen, che quindi possiamo paragonare al Grissom di CSI. In un momento di riposo, Barry sta leggendo, guarda un po' il caso, proprio Flash Comics numero 1, l'albo su cui ha esordito Jay Garrick. Senza immaginare che pochi minuti dopo un fulmine avrebbe colpito l'armadietto di composti chimici del laboratorio, facendogli perdere i sensi. La combinazione di quelle sostanze insieme, con l'energia trasportata dal fulmine, per amisi allo scienziato, proprio come Barry scoprì uscendo dall'ufficio, di acquisire il potere della supervelocità. Le sue prime imprese sono legate alla scoperta dei suoi stessi poteri, come per esempio riuscire a correre più veloce di un'automobile, oppure afferrare al lavoro il contenuto di un vassoio che sta per cadere a terra. Mentre in questo secondo caso i principi fondamentali sono gli stessi di quelli che abbiamo raccontato per il video relativo all'afferrare le pallotture al volo, risulta un pochino più interessante andare a parlare proprio della corsa, cosa che ovviamente non avevamo fatto nel video precedente. In questo caso andiamo a vedere un elemento che è fondamentale per la corsa, non solo di flash, ma anche di qualunque corridore, ovvero la forza di attrito. Questa è una forza che sostanzialmente si oppone al moto e che permette in realtà, proprio con questa sua opposizione, a chiunque di poter camminare o correre. Non è un caso, infatti, che se per esempio ci troviamo sopra una lastra di ghiaccio, un lago ghiacciato per esempio, le probabilità di scivolare sono decisamente molto alte. Questo perché quella superficie riduce appunto l'attrito quasi fino ad annullarlo. Una caratteristica però che è fondamentale per l'attrito e che sarà importante per capire il cuore dell'argomento di questo video, è che l'attrito è una forza che è sempre perpendicolare alla forza peso. Abbiamo detto si oppone al moto, ma è perpendicolare alla forza peso e anche la sua intensità, che è calcolata tramite il coefficiente di attrito, dipende dalla forza peso dell'oggetto che si sta muovendo. Prima di passare però al cuore della questione, ricordo che non fu un caso che John Broom, sempre insieme con Infantino, nella seconda uscita del personaggio su Showcase numero 8, idearono Capitano Gelo, storico avversario di Flash, che lo metteva in difficoltà proprio grazie alle sue pistole congelanti che creavano sotto i piedi del velocista scarlatto un strato di ghiaccio che impediva di aderire al terreno e quindi di muoversi a supervelocità. La storia di cui sto parlando è però la seconda di quello Showcase numero 8, perché invece nella storia di apertura scritta questa da Kalinger per i disegni sempre di Infantino, vediamo Barry Allen compiere un'impresa quanto più mirabolante ci sia, cioè correre lungo la parete di un grattacielo. Ora, per quello che noi abbiamo appena detto, una corsa in verticale da parte di Flash vorrebbe dire che Flash non può sfruttare l'attrito, perché sulla parete la forza peso è nulla, quindi non c'è attrito, quindi in un certo senso è come se si trovasse in una situazione simile a quella di una lastra di ghiaccio, quella appunto, che gli crea sotto i piedi Capitano Gelo. Allora, come possiamo spiegare che Flash è in grado di correre sopra la facciata di un palazzo? In realtà, se classifichiamo il movimento dei piedi di Flash lungo la facciata come una specie di licenza poetica da assegnare ai fumettisti, noi possiamo spiegare molto bene come si è in grado Flash di superare la facciata di un palazzo, perché semplicemente sta facendo una specie di salto in alto. Ovviamente più il palazzo è alto, più deve correre velocemente Flash. E in effetti, se consideriamo che la velocità necessaria per poter saltare con un unico balzo la facciata di un palazzo alto, per esempio 200 metri, e all'incirca, facendo un po' i conti, intorno ai 60-63 metri al secondo, ovvero poco superiore ai 220 km orari, siamo assolutamente certi che Flash sia in grado di superare con un balzo un grattacielo. Ovviamente ci sono dietro tutto una serie di problemi, soprattutto relativi alla potenza dei muscoli di Flash, perché deve trasformare in qualche modo un moto orizzontale in un moto verticale. Però questa è una cosa che per esempio fanno i saltatori in alto, per cui avendo una potenza proporzionalmente molto superiore, visto le velocità che è in grado di raggiungere Flash, non è così sconvolgente pensare che non sia in grado di trasformare relativamente velocemente e facilmente il suo moto da orizzontale a verticale. Quindi Flash non avrebbe alcuna necessità di dover correre lungo la facciata di un palazzo, gli basterebbe appunto un semplice balzo. In effetti però c'è una situazione in cui potrebbe in qualche modo muoversi, come se stesse correndo lungo la facciata, prendiamo per esempio due palazzi sufficientemente vicini uno accanto all'altro. In questo caso a Flash, dopo essersi dato la spinta iniziale verso l'alto, gli basterebbe darsi una spinta orizzontale lungo le facciate, rimbalzando un po' come una pallina elastica tra le due facciate dei palazzi. Detto questo, si conclude anche questo secondo video dedicato ai supereroi, in particolare a Flash. In descrizione trovate tutti i link di approfondimento e quindi non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati e ovviamente darvi appuntamento al prossimo video in particolare della scienza con i supereroi. Saluti a tutti! Saluti a tutti!